Siamo con Vierci, autore di uno dei quattro gol con cui il finale si è imposto sul campo delle Varazze, grande partita da parte della squadra. Per te la soddisfazione di aver trovato il primo gol in prima squadra? Sì, veramente è stato bello, è stato emozionante, anche perché da un po' che si aspettava questo mio gol, tutti mi hanno dato i consigli, mi hanno sempre aiutato, soprattutto il mister che mi ha dato sempre la fiducia. Ecco, mister Butu a cui piace molto lavorare con i ragazzi, cosa ti sta insegnando, cosa stai imparando in questa avventura? Di tutto, il mister mi sta aiutando veramente tanto, tutto il punto di vista, difensiva, offensiva, movimenti, tutte queste cose che non mi hanno mai insegnato. Un campionato che entra nel vivo, un finale lì nelle posizioni di testa, cosa ti aspetti da queste ultime partite in vista poi del rush finale? Dobbiamo continuare a lavorare bene, non sottovalutare nessuno, veramente tosta, dobbiamo cercare di lavorare bene sempre.